Ciao a tutti, sono Alberto Martini e io sono Daniele Gaiola. Benvenuti nel nostro podcast dove parleremo di endurance a 360 gradi, dalla corsa su strada al triathlon, dall'ultra trail agli Ironman. In questo spazio parleremo di preparazione, racconto gare e materiali, portando la nostra esperienza e quelle del persone che intervisteremo. Partiamo! Benvenuti ad una nuova puntata del podcast. Ciao a tutti ragazzi. Eccoci qua. Oggi puntata nerd. Un po' più nerd delle altre, dai. Oggi puntata tecnica. Oggi parleremo sul come correre più a lungo. Sì, più forte e più a lungo. Come performare meglio sulle lunghe distanze in tutti gli sport. Sì, e soprattutto andiamo a cercare di capire sia come allenarsi e cosa succede, soprattutto negli allenamenti un po' più lunghi, e come poi può cambiare anche la prestazione nelle gare lunghe, non so, inizio gara, rispetto a fare lo stesso sforzo dopo dieci ore. Che cosa succede nel nostro corpo dopo tot ore di allenamento o gara. Esatto. Esatto. Parleremo di quella parolina magica. Dai, dilla. La dico io. Dai, dilla. Che è... Lo so che ti piace. Durability. Ormai è sulla bocca di tutti coloro che fanno endurance. È la nuova frontiera. Se ne parla ormai da qualche mese, ormai qualche anno quasi. Andremo a capire un po' se è un valore che a noi può interessare, se è un valore che può interessare solo chi fa trail, chi va in bici, chi fa l'Ironman, chi fa, non lo so, il Thor. Perché l'ho ordinato? È vero, tu non ci stai pensando. Oppure se è un qualcosa che non ci serve a nulla, non dobbiamo preoccuparci. Insomma, andremo a sviscerare un po' quello che ci dice la scienza, quello che ci dicono gli studi. A me stanno sudando le mani. Ho pensato Thor, Lut, un po' di cose. Cioè, già, ho la sudarella. Beh, allora, visto che è uscita questa cosa, facciamo un attimo il punto anche del... prima di iniziare con... Io? Con... Inizia tu, poi magari racconto qualcosa io. Io non ho niente di importante. Allora, io ho concluso... Come stai? Bene. E ho concluso la mia settimana di picco di volume con gli ultimi lunghi in vista della Lut. e ho fatto un tre giorni attaccati. La prima volta che faccio una tripletta attaccata con primo giorno ripetute, secondo giorno lungo da 50 km e terzo giorno lungo con 3000 metri di slivello. Quindi, primo giorno ho fatto qualità per stancarmi e secondo giorno ho fatto lungo più orientato verso il corribile, un percorso corribile, quindi ho corso per 50 km. Terzo lungo orientato sul dislivello. Niente, vabbè. Bene. Un weekend lungo bello impegnativo. Sono uscito distrutto, ieri ero massacrato, ieri ero proprio cotto, cotto, cotto. Domenica stava ancora bene, anzi, la cosa bella è stata che domenica quando correvo sul tapirulano qui alle 6 di mattina, dicevo, ma però dai sto benino, tutto sommato, cioè nonostante il carico degli ultimi giorni. Ho detto, cavolo, quella è stata forse la cosa più bella di tutto il fine settimana, quindi la domenica che stava ancora decentemente, ecco. Arriva dopo, è arrivata dopo. 36 ore dopo è arrivata la botta. Sì, no, no, ma lo sapevo. Importante. Lo sapevo, lo sapevo. E te invece? Io mi sto allenando molto. Beh. Sì, sì. L'ultimo mese ho fatto un massimo volume di allenamento della mia vita. Ripetute di cartoncini. No, no, io dopo Iesolo, vabbè, lo sapevo sarebbe stato un po' così. In realtà speravo di allenarmi un po' di più le due, tre settimane almeno dopo Iesolo, solo che mi sono ammalato. e poi tra finisci un lavoro, finisci un altro, provarai quest'altro. E adesso? E adesso non so quando uscirà questo video. Probabilmente uscirà questo video che io sto dall'altra parte del mondo, come avevamo detto nel questo podcast. Forse dopo la mia luta addirittura uscirà, non lo so, non è. Potrebbe uscire dopo la luta. No, io fra tre giorni mi sposo, quindi registro questo podcast. Ciao a tutti e poi lo salutiamo e lo rivediamo. Poi addio. Farò questo podcast, continuiamo alle prossime puntate. Lascerò a Roberto, per una puntata da solo, o magari tornerà a Tommy per raccontare la vostra lutta. C'è Tommy, c'è Tommy, a darci supporto. E niente, quindi il lato allenamento, diciamo, è un momento un po' di sosta, diciamo così. Di pausa. Di break. Sì. Guarda, da una parte... Ci sono priorità, ci sono. Sì, sì, ci sono priorità. Poi devo dire, come ho detto nel video di Iesolo, comunque, non dico che è stata la mia priorità, eh, arrivare a Iesolo, assolutamente. Però, insomma, anche Martina ha dovuto, non sopportare, però, accettare il fatto che fino a Iesolo, io, insomma... era un compromesso. Sì, il tempo a disposizione lo mettevo su quello, non... Ci sta, eh. Non andavo a dormire alle due di notte come gli ultimi giorni, però dopo Iesolo, insomma, il matrimonio, la casa, si avvicinava tutto troppo, quindi... Tutto insieme, va bene, e riprendere ad allenarti dopo il viaggio di nozze. Sì, sì. Ma io spero che qualche corsetta riuscirai a fare. Ma io un paio di corsette esplorative le vorrei fare, poi vedremo cosa succede. Provaci. bene, quindi periodo intenso, eh? Periodo molto... Sì. No, come sto dicendo a molti, almeno per me, è un periodo difficilissimo, stancante, durissimo, però anche molto bello, quindi... Sono contento, molto felice. L'importante è quello, ecco, l'importante è quello. Bene. Ok, allora, quindi... Tornando a noi, dopo questo... Allora, dici professore... Professionale che... Che cacchio è sta durability? No, allora ecco, entriamo come dicevamo prima un po' più nel tecnico. Intanto, cerchiamo di capire all'atto pratico, in parole anche un po' semplici, che cosa è la durability? Cioè, ok, durability, ma che significa? Come... Facciamo un salto indietro? Come, diciamo, si è sempre usato e si utilizza ancora oggi, soprattutto nell'endurance, un atleta può essere descritto... Ok, sì. In base a alcune caratteristiche, no? Tutti noi utilizziamo la soglia anaerobica, da quando gli orologi ce lo segnano, magari diamo un'occhiata anche a quel valore che magari segnano in maniera non affidabile, il V2 max. Però che è il V2 max, cioè la massia capacità aerobica dell'atleta... Che non è reale quello che c'è scritto. Che non è molto spesso reale. E l'altro, diciamo, parametro importante che va a creare poi le caratteristiche dell'atleta sono le capacità che questo ha di performare, ma soprattutto di eseguire proprio quel gesto. Che sia il nuoto, che sia la corsa, che sia la bici, che sia lo sci, sci non discesa, sci di fondo, diciamo. che è l'economia del gesto, cioè quanto spende Roberto a fare un chilometro di corsa, cioè al suo corpo quel chilometro quanto costa? Ovviamente più si è economici, meno, quindi, è il costo di quel determinato gesto e più potrò performare. Questo è una cosa che si, se andate a vedere, masticate un po' l'inglese, ma comunque potete mettere i sottotitoli, il video, non so se tu te lo ricordi, del progetto Sub Due Ore fatto in maratona per Kikogge e gli altri. Questi erano i tre parametri, diciamo, che venivano praticamente cercati per capire chi è l'atleta ideale. In realtà, più che il VODOmax, allora interessava la percentuale di utilizzo del VODOmax, la frazione di utilizzo, si chiama. Però, insomma, queste sono le caratteristiche principali. Che poi, scusa, se ti interrompo, l'efficienza del gesto nella corsa è un qualcosa predominante. Cioè, ci sono atleti magari con un VODOmax non altissimo, ma un'efficienza altissima che performano a livelli assoluti, ecco, a livello mondiale. Mentre invece, correggimi se sbaglio, nella bicicletta questo è meno influente perché è meno. È meno influente perché comunque il gesto, sei comunque vincolato. Cioè, non è un gesto tecnico che puoi chissà quanto affinare. Migliorare o affinare. Un minimo certo, ma soprattutto più pedali, più il tuo corpo è abituato e economico a pedalare. però non è come la corsa che se uno corre bene e uno corre male c'è una differenza abbissaria. Cioè, c'è un dispendio energetico nettamente in uno superiore dell'altro. E invece un altro fattore che hai detto della frazione di utilizzo che cosa sarebbe nel dettaglio? Questa è collegata all'economia, cioè praticamente quello che interessa è a parità dei VODOmax cioè io e te abbiamo tutti e due 80 magari in un'altra vita. Non in questa. esatto. Magari abbiamo anche la stessa soglia. Quello che cambia è a che percentuale del VODOmax tu hai quella soglia? Cioè, io ce l'ho al 90% del VODOmax e tu ce l'hai all'80. Ok. Volterà a dire che io riesco ad avere un'attività più aerobica anche ma comunque riesco a tenere e a tollerare l'intensità più alta per il più lungo periodo rispetto a te. Ok. Quindi la frazione di utilizzo del VODOmax per me è più alta rispetto a te. Che percentuale posso utilizzare io per più tempo quel VODOmax. Ovviamente se la mia soglia è al 90% vuol dire che io all'85% ci posso stare più tempo rispetto a te che hai la soglia all'80%. Così è per far capire un po' il concetto generale. E questi sono i fattori che hanno guardato chi studiava e tutto quanto chi faceva i test e tutto quanto sono i fattori che hanno guardato fino... sì, assolutamente principalmente fino a qualche anno fino a qualche anno fa e adesso è uscito fuori invece? Negli ultimi anni questo viene principalmente dal ciclismo per il metodo per il modello prestativo che ha per la tipologia di gare che ci sono se uno... Ma io sono contento che nel ciclismo stanno molto più avanti rispetto per esempio nel running lo sport più studiato di endurance al ciclismo. Esatto cioè dove ci sono più test più ricerche più cose ad oggi è il ciclismo. Sì, non so se perché è il più semplice magari trovare 10 persone che pedalano anche se trovi 10 persone tra virgolette di medio livello le mettite su un cicloergometro e... Forse ci sono più soldi? Potrebbe. Perché alla fine boh non lo so non credo sia legato a quello cioè sicuramente le squadre investono tantissimo negli ultimi anni però è più semplice forse mettere su un piede di uno studio per... Sul cicloergometro piuttosto che uno studio per vedere gente che corre cioè se non hai gente che sa correre dopo 5 minuti sono morti. Vabbè la piccola parentesi perché... Però è sicuramente più studiato. Secondo me stanno più avanti di qualche anno stanno... Cioè infatti è lì che noi stiamo guardando cioè nel senso noi tutte le nostre metodologie guardiamo là guardiamo là cioè perché poi come diciamo sempre per il cuore per il nostro corpo pedalare, correre, nuotare scia cioè è uguale. Cioè il nostro cuore non sa se tu stai pedalando o se stai correndo i cuore e colmai non sanno poi... Loro stanno lavorando e basta. C'è l'allenamento specifico muscolare ma quello è più discorso. C'è l'adattamento specifico al gesto assolutamente però la metodologia di allenamento per l'uomo è quella. L'endurance è endurance appunto qualsiasi sport voi facciate. Però quindi per tornare alla durabilità è uscita fuori questa cosa perché? Questa quarta variabile Sì esatto questa caratteristica possiamo dire che si è visto che è fondamentale poi negli sport di endurance di cui stiamo parlando Sì perché praticamente cosa succedeva probabilmente si è iniziato a chiedere ma perché se io ho due atleti uno è più forte dell'altro mi faccio due test a riposo e l'atleta A batte sempre l'atleta B ma poi in gara vince l'atleta A non vince mai se non quando fa le gare sotto le quattro ore cioè gli manca la resistenza è ma l'ielo di resistenza aerobica è più forte che succede? E quello che sono andati a chiedere ok se tu hai una soglia in aerobica più alta dei valori migliori eccetera ma quei valori riesci a diciamo farli esprimerli anche dopo 4-5-6 ore di gara? E questa è la durabilità Questa è la durabilità cioè la capacità di ripetere lo stessa parliamo di gesto lo stesso gesto Sì la stessa intensità la intensità anche parliamo di watt ad esempio erogare gli stessi watt a riposo e in condizioni di affalicamento ok quindi una persona che ad esempio a riposo ha una soglia a 300 watt e dopo 4 ore ha una soglia a 300 watt avrà un'ottima durabilità rispetto a un'altra che ha 300 a riposo e dopo 4 ore non va oltre i 260 ok questo è per spiegare all'atto pratico che cos'è durabilità secondo me questa è una cosa su cui ci siamo spesso confrontati sì è un valore che nel ciclismo vale è molto importante rispetto alla corsa rispetto al triathlon di lunga distanza perché perché come modello prestativo nel ciclismo loro partono e dopo 5 ore a un certo punto c'è l'ultima salita e lì hanno 20 minuti in cui devono fare il loro 20 minuti a tutta a tutta nell'Iron Man ad esempio non hai che dopo 8 ore devi fare 20 minuti a tutta devi mantenere il ritmo più costante possibile nel trail anche però come spesso diciamo il trail il trail secondo noi è quello più simile di tutti al ciclismo come modello di prestazione secondo me il trail con i cambi di ritmo con le salite le discese tu ce l'hai dei picchi di potenza diciamo noi non la registriamo la potenza ma comunque ce l'hai quando fai dei strappetti i battiti non salgono però magari tu in quel punto stai lavorando un po' di più certo dipende come lo gestisci nel senso che non è che tu arrivi lì e hai 2 minuti di sprint massimale per staccare tutti gli altri no lì è veramente importante durare e poi non hai tipo gli ultimi 20 minuti oddio quelli forti ce l'hanno magari gli ultimi 20 minuti l'ultima salita è in zeta 4 cioè fai una 40 km una gara corta tra virgolette veloce gli ultimi 5 km ci abbiamo l'ultima salita chi ha più durabilità sull'ultima salita è quello che che vince in quel caso probabilmente sì quindi oltre a questo ci siamo andati a chiedere per noi è ma con i nostri allievi con le persone che alleniamo che non sono ciclisti o comunque la maggior parte non fa gare di ciclismo questo concetto cosa ci possiamo fare? che significa? che significa? che implicazioni ci dà nell'allenamento e nelle gare? sì e insieme al concetto di durabilità di pian piano questa è una cosa su cui noi molte volte abbiamo sbattuto la testa tra di noi e poi con gli allievi cioè capire quindi collegato al discorso appunto di durability il come varia cosa succede al nostro corpo dopo un'ora due ore tre ore quattro ore cinque ore dieci ore di allenamento e gara cosa fare e come comportarci all'atto pratica nell'allenamento sì ad esempio non so negli allievi ma anche in te e in me qual è la prima cosa che succede quando devi fare che ne so cinque ore di allenamento anzi parliamo di maratona quando fai lungo maratona lungo maratona 35 chilometri in zona 2 te te lo ricordi il lungo c'è anche il vlog quello dei 40 chilometri in zona 2 fatti sul sentiero qua a Pasolini il mio sì arrivato in zona 5 racconta cosa si è chiesto me lo ricordo bene io quel giorno perché mi scrissi dicendo no era era gato in Z4 mi sa mi sa anche in zona 5 mi ricordo quella striscietta rossa se era di qualità sì se era lungo di qualità sì però quello che dici tu era lungo lento e non sono arrivato in Z5 ma sono arrivato in Z4 e ha detto cavolo cioè in parole quando se non siamo molto allenati o comunque se non abbiamo una buona durability abbiamo comunque una deriva della frequenza cardiaca a lungo andare e penso che succeda a molti di voi magari che voi andate dovete lungo da 30 km dovete farlo a 5 km partite con i battiti a 130 e piano piano salgono 135 140 145 150 meno siamo allenati per quel tipo di sforzo esatto e più questi battiti vanno su vanno cioè in quel caso io stavo preparando maratona di Firenze venendo dal trail dove lo sforzo richiesto era diverso non era abituato al movimento costante in piano e il mio corpo l'ha rifiutato a un certo punto cioè non ero proprio preparato e pronto e sono arrivato con battiti altissimi nonostante il ritmo fosse lento e detto sinceramente non è che stavo fuori forma stavo bene però proprio non ha risposto bene per niente quindi quello che ci siamo chiesti che cosa è più giusto fare in questi casi cioè rallentare e andare a 6 al chilometro per mantenere i battiti a 130 oppure continuare a ritmo costante e lasciare salire i battiti questo è quello che ci siamo chiesti spesso tra di noi o nei nostri allievi come gestire questi allenamenti perché comunque un po' di deriva ce l'abbiamo tutti escluso come sempre Dario che se ci stai guardando sempre lui che va più forte ma che lui ce la deriva non ce l'ha non ce l'ha cioè è piatto il suo cuore non sale il suo cuore è morto cioè allora quindi a meno che non siete degli alieni o qualcosa del genere ecco lui ha una durabilità pazzesca e ha un'efficienza comunque del gesto della corsa comunque ottima perché se no non andrebbe così forte vabbè scusate e quindi come gestire i nostri allenamenti questo è quello che ci siamo sempre chiesti noi come allenatori riuscire nel senso rallentare noi però ce lo siamo la risposta è sempre stata quella diciamo noi già lo sappiamo è uscito uno studio a riguardo e un po' è quello che noi già facevamo sì in parte sì praticamente che tornando a questo studio cosa si sono chiesti cioè all'interno di un allenamento lungo le nostre zone di allenamento che cosa variano cambiano quindi se cambiano quelle se io voglio fare 5 ore in zona 2 aspetta aspetta piccola parentesi le zone reali sì sì non le zone del Garmin esatto le zone reali fisiologiche fisiologiche quindi soglie aerobica e soglie anaerobica ok quindi piccola parentesi quindi vai prosegui che poi sono quelle su cui uno basa l'intensità dell'allenamento e cosa si sono chiesti quindi se appunto io voglio tenere voglio dare quello stimolo aerobico al mio corpo voglio stare in soglie aerobica per 5 ore la mia soglie aerobica della prima mezz'ora è la stessa identità della quatt'ora cioè quell'intensità dopo 5 ore è sempre soglie aerobica quello che hanno visto in atleti allenati non atleti non in Daniele Cagliola dai pure tu sei tornato su sì sì però erano mi sembra professionisti o comunque se non erano professionisti poco ci manca ovviamente ciclisti ovviamente ciclisti ciclisti sono gli unici che si prestano a queste cose e oltre che è più semplice perché un runner che ti fa 5 ore a meno che non sia un ultra trail runner ma lo sai proprio perché nella corsa non c'è neanche la potenza quindi hai una cosa meno oggettiva esatto nel ciclismo avendo la potenza forse è probabilmente anche più semplice dare in modo scientifico dei numeri e dei dati sì 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 assolutamente ok quindi che hanno visto? hanno visto che hanno fatto un test a riposo da freschi poi hanno fatto una quantità di una misura di volume lavoro chiamiamola come vogliamo ovviamente si misura essendo un lavoro in kilojoule poi magari faremo una puntata su kilojoule un po' più nerda perché se entriamo qui non usciamo più però immaginate una quantità di volume e poi hanno fatto di nuovo lo stesso identico test quello che sono andati a vedere è appunto come variava loro sono andati a vedere la prima soglia principalmente mi sa che i kilojoule spesi equivalevano a circa 40 kilojoule per chilo 4 ore mi sembra di circa non mi ricordo quante ore però comunque era un lavoro prendiamo lo studio così lo chiamiamo non me lo ricordo va bene va bene comunque era circa 2800 kilojoule che per chi mastica un po' il valore non è proprio poco 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 non è poco è qualche ora di lavoro comunque esatto e quindi che cosa hanno visto? hanno visto che premessa ovviamente varia da atleta atleta quindi c'era qualche atleta che aveva dei valori complementi diversi dagli altri in positivo e negativo ma hanno visto che in media il valore scendeva anche di circa il 10% quindi se io a riposo ho una soglia aerobica di 200 watt o per chi corre così cerchiamo di farvi capire anche in termini più runneristici podistici scusate che significa brandiristici se ho 5 al chilometro magari dopo tre ore invece di avere 5 al chilometro ho 5,20 al chilometro ok? stessa cosa con la potenza stessa cosa con la potenza invece di avere 200 potrò avere 170 quindi le nostre soglie si spostano le nostre zone si abbassano durante l'allenamento parliamo di ritmi di allenamento e di zone di potenza le zone cardio fanno l'opposto invece infatti la mia domanda era adesso invece le zone cardio si alzano perché ovviamente con il fenomeno che diceva anche prima Robby della deriva che succede? la deriva che cos'è? quando a parità di intensità il mio cuore sale cioè ad oggi cioè ad oggi ora riesco a fare questo passo al chilometro a 150 battiti fra due ore stesso passo al chilometro starò a 160 battiti questa è la deriva quindi il cuore in realtà si alza ok? oppure una cosa che dici no? e quindi la nostra ipotetica Z4 in realtà è una zona 5 esatto quindi la mia Z4 a 168 battiti alla sesta ripetuta potrebbe essere a 175 battiti il senso è questo quindi guardando il cuore come punto di riferimento devo vedere che mano mano si alza quindi le ripetute che ho fatto questa mattina dove ho finito in Z4 alla fine della seconda ripetuta prima non l'avevi mai toccata? no ho fatto la prima ripetuta in Z3 diciamo quindi probabilmente le mie ripetute di oggi questa è una domanda tra me di quelle belle che ti faccio ok vai quindi non so dove vuole andare no 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 è che per quello che stiamo dicendo adesso le ho fatte a ritmo costante tutte e due non c'era vento non c'era niente quindi ho fatto un 2 per 12 minuti in ipotetico Z4 però per quello che stiamo dicendo io ho toccato la Z4 solo alla fine alla fine della seconda ripetuta quindi probabilmente ho fatto delle ripetute in Z3 se quello che oppure se non è troppo breve cioè il concetto di durabilità per me può aver senso dopo più tempo sì 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 come vi consigliamo spesso noi però per esempio scusa è normale anche in una mezza tu inizi una mezza che magari stai un po' più e finisci in zata 5 quindi comunque anche per sforzi brevi c'è un pochettino no la deriva c'è sicuramente anche per sforzi brevi assolutamente perché poi mezza noi la chiamiamo sforzi brevi ma in realtà a livello fisiologico un'ora e mezza un'ora e mezza un'ora e quindici anche un'ora è uno sforzo lungo estremamente lungo cioè considerando che non stiamo parlando di test 20 minuti no no considerando ma anche che prove di 4 minuti sono già praticamente quasi solo esclusivamente aerobiche pensate un'ora cioè un'ora è aerobico puro cioè il resto non dico che non conta quasi nulla ma insomma quindi in che zona l'ho fatta allora le mie ripetute questa mattina ma secondo me allora potrebbe essere una zona 3 ma non per il cuore dovete sapere ora faccio non per il cuore faccio uno spoiler brutto metto in cattiva luce Roberto no non è vero fallo 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 vai abbiamo lanciato appena adesso un mega aggiornamento all'interno della nostra applicazione che permette di creare dei programmi di allenamento ancora più personalizzati di prima per esempio ci permette di inserire gare intermedie e in base a quelle ricalcola la programmazione dei lunghi e se un giorno non ci sentiamo bene ci riprogramma l'allenamento che abbiamo per quel giorno il tutto per generare dei programmi di allenamento che si muovono e modificano in base alle vostre necessità secondo me è davvero un ottimo punto di partenza per iniziare ad allenarsi con un metodo per i propri obiettivi da una mezza maratona su strada al passatore da 100 km oppure anche alla lavaredo da 120 km percorsa su strada e trail running per scaricare l'applicazione trovate il link qui sotto in descrizione e ci sono due settimane di prova gratuite andate a dargli un'occhiata grazie per un'infinità di motivi tra cui non sappiamo bene quando incastrarli è tanto che non facciamo anche dei test per conoscere davvero le come dire non le zone ma le intensità di allenamento di Roberto e che non significa che allora sta andando a caso ma ormai si conosce talmente bene e abbiamo talmente tanti parametri che riusciamo comunque a capire bene o male come sta però è indubbio che da questo punto di vista saper di preciso a livello di Watt perché lui adesso segue solo possibili possibili esclusivamente Watt anche se questa mattina era scarico ecco perché non si è andato in zona 4 no no sono i stessi ritmi di settimana l'anno scorso e segue quelli e quindi avere precisamente il valore reale tra virgolette calcolato con un test potrebbe essere una cosa una cosa buona e poi ci sono mille fattori che con il cuore uno deve valutare però guardando tipo la 10 km che ho fatto ormai un mese e mezzo fa si un po' meno non è cioè guardando i ritmi di allenamento si non è che chissà quanto più forte più o meno corrispondono quindi volendo prendere i ritmi di allenamento più o meno a quanto hai fatto stamattina ripetuta 3 3.50 eh sì più o meno però i 10 km ho fatti a 3 4 non ho potuto fare 3.37 forse se era una gara vera però ci può stare cioè nel senso che essendo un come dire a tempo io sto sudando scusate dovete sapere quando registriamo è tutto chiuso siamo bardati quindi sì fino ad aprile si sta bene poi da aprile in poi dovremo mettere 3 condizionatori che poi fanno rumore prossima volta dobbiamo accendere il condizionatore che fa rumore esatto e quindi c'errete feedback sull'audio no tornando a noi quindi secondo me sono potrebbero stare magari in zona 3 alta zona 4 bassa però il cuore è un parametro da prendere sempre con le pinze sì sì perché io conoscendomi so che nella prima parte di allenamento i battiti ci mettono tanto a salire sono molto bassi quindi poi so che ci arriva un pochettino oggi non avevo margine per fare di più cioè nel senso oggi le mie gambe è più di quello no ma se vuoi ad esempio ecco quello che stiamo quello che magari volevi dire tu cosa è importante cioè poi alla fine che cosa guardare che cosa sì sì no ecco per chi va in bici ancora di più c'è nota una differenza di battiti tra i rulli la pianura la salita a parità di intensità vedi cose diverse quindi i battiti vanno sempre bisogna saperci lavorare in parte secondo me con i battiti però poi in tutta la miriade di dati uno può avere una delle cose importanti sì per le alte intensità ma secondo me soprattutto per le basse intensità zona 2 soprattutto per i lunghi poi è la percezione dello sforzo cioè se anche sto in zona 2 di watt o in zona 2 alta di cuore ma sento che fra mezz'ora sono morto finito e pedalo da 2 ore eh significa che quel giorno non sto bene oppure che quella non è la mia reale zona 2 perché comunque ha sensazioni c'è il famoso talk time sì sì che è una cosa che potete fare tutti anche senza aver niente questo orologio sì 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 mi sto allenando dopo 40 minuti provo a fare che ne so a canticchiare una canzone dentro di me o fate finta tanto non vi sente nessuno se state da soli che provate a dire una frase a qualcuno come se stesse al telefono se riuscite a dirla senza problemi allora sì quella è la vostra sogliai robica se già fate fatica dovete rallentare a prescindere dai valori che vi danno il Garmin o Polar o WU o qualsiasi cosa vuoi usare allora i parametri esterni possono dirci quello che vogliono ma la cosa che conta di più sono le nostre sensazioni e lo sforzo percepito non è forse la cosa che conta di più però vanno presi in considerazione quando guardiamo i numeri sì cioè noi possiamo capire soprattutto a bassa intensità noi possiamo capire se stiamo allineati con l'allenamento richiesto dal programma dalla tabella quello che volete se più fattori coincidono cioè nel senso io penso che cioè io non guardo solo un fattore cioè io quando corro guardo più cose sforzo percepito passo al chilometro magari potenza la frequenza cardica è l'ultima cosa che guardo è l'ultima cosa che mi interessa sì sì poi anche lì dipende non solo da perché la frequenza cardica è troppo variabile anzi in alcuni casi dipende da soprattutto appunto dall'allenamento cioè negli elementi d'alta intensità basarsi solo sul cuore non ha molto senso cioè posso basarmi sul cuore una volta che intanto ho visto a che intensità sto andando so come mi sento allora cerco il perché poi il ritmo la potenza sono tutti valori esterni no? sì 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 il cuore è l'unico valore che noi abbiamo interno magari c'è la frequenza respiratoria sì però non la usa ancora quasi mai nessuno però è il io mi sento così il cuore conferma o meno quello che io sento questo è un parametro su cui uso molto io in gara ogni minuto io guardo la frequenza cardiaca ma non per farmi influenzare e dirmi ah ok allora posso accelerare o diminuire è per capire quello che sta succedendo dal mio corpo cioè mi ricordo che ne so durante la mezza durante la maratona guardavo il cuore ma io avevo in mente l'intensità che potevo tenere lo guardavo solo per capire cosa stesse succedendo e per capire se come mi sentivo io era magari avevo anche un parametro più oggettivo cioè perché le tue sensazioni possono dipendere anche solo dalla stanchezza cioè emotiva certo oppure dalla carica emotiva all'inizio sto benissimo io dico sempre che nell'ironman nel nuoto tu ti parte una bomba perché dentro la tua testa tu pensi solo alla bici e alla maratona dici il nuoto vabbè un'oretta esco e parti a cannone e non senti fatica ma non senti fatica perché la tua testa è pronta per fare dieci ore di sforzo se dopo un'ora senti fatica ma non senti non salire neanche in bici cioè hai sbagliato qualcosa fai a casa e mangi quindi la testa può essere tanto amica cioè ti può far fare molta poca fatica così come magari in altri momenti ti può far fare tanta fatica io sfrutto il cuore soprattutto in gara in questo modo cioè o quando faccio le ripetute cioè non è che se sto in zona 3 e devo fare le ripetute in soglia sto in zona 3 e mi sento veramente a tutta non è che dico ah no devo accelerare ancora di più perché il cuore non è salito o viceversa sì tipo io oggi io stavo in zona 3 ma cioè io stavo già andando no esatto un conto diverso è come lo uso quando magari faccio i lenti allora lì si baso più sulla sensazione e sul cuore non guardo il ritmo al chilometro in quel caso no anche io anche io però sì insomma ok quindi tornando sullo studio ok all'atto pratico poi alla fine all'atto pratico diciamo che venivano consigliate due cose cioè ok ho visto che dopo tre ore di allenamento mi si abbassa la mia soglia aerobica che faccio e i consigli erano principalmente due il primo è parliamo di valori esterni quindi watt e il ritmo al chilometro il consiglio è quello di abbassarli un po' così come ho visto che la mia soglia aerobica quindi realmente l'intensità di quello che succede fisiologicamente nel mio corpo si abbassa ok io voglio dare quello stimolo so che dopo tre ore per dare quello stimolo devo abbassare l'intensità ok quindi se state facendo il lungo per la maratona è stata la terza ora e voi volete dare uno stimolo di zona 2 se siete partiti a 5.30 magari se siete molto stanchi perché ripeto qui ovviamente se siete stanchi eccetera eccetera se c'è sensazione di fatica allora lì si potete abbassare un po' il ritmo potete rallentare a 5.20 per esempio sì non mi ricordo quanto avevo detto che si partiva però rallento i 10 secondi al chilometro sembra 5.30 quindi rallento a 5.40 ah sì c'è ragione scusa per quello che ho detto non mi ricordo sto seguendo la potenza come diciamo prima sto a 200 watt so che dopo 3-4 ore se sento affaticato vi devo mettere a 180 watt cosa diversa per rimanere nella vostra zona fisiologica nel tempo dovete rallentare il passo al chilometro o i watt esatto leggermente nel tempo calarli nella seconda metà sì altrimenti se invece si usa più la frequenza cardiaca se le sensazioni sono positive perché se le sensazioni sono di affaticamento eccessivo e l'allenamento dovrebbe essere facile devi rallentare a prescindere esatto ma se le sensazioni sono comunque ancora buone e io vedo che quel ritmo lo riesco a tenere bene e il mio cuore sale continua a salire certo se sale al quinto chilometro ragazzi no se sto al venticinquesimo corro da due ore due ore e mezza e il cuore sale potete lasciarlo andare leggermente leggermente ovvio che se parto in zona 2 e finisco in zona 5 c'è qualcosa che non va no però se parto in zona 2 e finito in zona 3 non succede non succede assolutamente non dovete rallentare soprattutto ripeto se l'allenamento è un lungo se sto facendo un allenamento di 40 minuti e vado a finire in zona 3 lì non è durabilità non è deriva non è niente è semplicemente sto andando troppo forte ok no perché molti di seno dicono eh la media finale del mio allenamento è in zona 1 sono partito a 100 battiti ho finito a 180 e non hai fatto un allenamento facile cioè la media non c'entra molto c'hai fatto una bella progressione in Zata Cinthia esatto hai fatto una bella che non è detto che vada male ma non è è un'altra cosa non hai fatto l'allenamento richiesto esatto quindi su questo ripeto sui lunghi cercare infatti tutto questo è il discorso più che altro lunghi o allenamenti allenamenti particolari ecco però ecco questa è la gestione secondo me principalmente per i lunghi sì su strada secondo me è più semplice perché su strada difficilmente anche noi che nel trail lo facciamo o magari in bici capita su strada è difficile che facciamo che ne so 20 km in zona 2 e poi te le ripeto dalla fine no quasi mai nel trail l'abbiamo fatto però non è una cosa che usiamo molto spesso perché credo cioè io penso che appunto è una cosa che non serve allenare troppo in ottica maratona serve esatto quello sta a vedere quindi serve un po' meno serve molto di più fare l'inverso cioè fare all'inizio qualità all'inizio e poi ti insegno cioè ti alleno a correre con le gambe stanche con le gambe stanche mentre in bici perché soprattutto per chi non ha un livello professionistico se fai un giro con delle salite dopo tre ore devi fare una salita quella salita non la potrai fare in zona 1 o zona 2 cioè a meno che non vai su a tre all'ora ma magari non hai neanche i rapporti per andare almeno in zona 3 ci vai perché sennò proprio non sali se becchi una salita abbastanza importante e quindi lì per questo o se proprio ti viene chiesto di fare che ne so le salite in zona 4 sai che alla quarta salita che fai la tua zona 4 devi abbassarla un po' come intensità cioè se le fai a 250 watt fa lei a 240 235 perché a noi lì non interessa la prestazione ricordiamoci che adesso stiamo parlando di allenamento cioè a me interessa se io allenatore dico voglio allenare quella caratteristica quella componente io voglio dare uno stimolo a quella componente quindi per darglielo so che alla quarta ora devo abbassare un po' l'intensità perché sennò andrei a allenare invece che la soglia il VOD Max sto sparando però per far capire il concetto nel trail secondo me è lo stesso identico la stessa antica cosa cioè sì sì sono d'accordo quando noi facciamo che ne so allenamento in salita a zona 3 discesa a zona 1 noi abbiamo sempre detto nel trail non c'è deriva ti ricordi? perché non ragionavamo non pensavamo al fatto che noi seguiamo il cuore quindi se noi diciamo le facciamo tutte a 150 e non c'è deriva perché però non abbiamo non c'era questo fino a qualche anno fa poi ci abbiamo ragionato non abbiamo mai visto che ne so la VAM o il ritmo al chilometro sulla stessa salita no? sì poi abbiamo iniziato poi abbiamo iniziato a dire ma perché quando quel famoso lungo di 40 km abbiamo iniziato a dire ma perché faccio 4 ore di trail non ho deriva e 4 ore su strada ce l'ho gesto diverso sì però abbiamo visto che la deriva nel trail c'era è semplicemente che era la rita e invece che salire il cuore si abbassava il ritmo che era la stessa identica cosa è quello che abbiamo detto di fare col passo al chilometro esatto e quindi come la gestiresti tu se magari devi fare che ne so un 3000 spalmato in tre ripetute da 1000 come faresti prima seconda o terza cioè ti gestiresti cambieresti il ritmo le fattive sempre uguali secondo questo studio io dovrei se le devo fare Z 3 secondo questo studio io dovrei fare la prima in Z 3 la seconda in Z 3 abbondante alla seconda in Z4 secondo questo studio tipo però probabilmente ti dico che così è tosta e diventa abbastanza impegnativo quello che posso dire come la gestirei io magari è Z3 bassa la prima Z3 piena la seconda e la terza come riesci a farla guarderei guarderei tanto la BAM guarderei tanto la BAM in questo caso sulla stessa salita se faccio un 3x1000 sulla stessa salita che è un po' quello che io faccio adesso perché solitamente poi la prima salita salgo sempre con battiti un po' più bassi poi lascio andare sulla frequenza cardiaca e inizio ad andare a Z2 in Z3 la lascio un po' salire è quello che faccio un po' più adesso e invece secondo te qualora seguissi la potenza no? cioè sono un po' in contrapposizione le due cose o cioè della serie se sei stanco abbassa la potenza e io credo che il cuore non si abbasserà ma rimane costante no? allora perché se devo seguire il cuore posso devo alzarlo cioè quello che stavamo dicendo prima di registrare in questo modo se lo alzo vuol dire che tengo la potenza costante se abbasso la potenza il cuore salirà meno se il cuore continua a salire vuol dire che la potenza è costante però magari il cuore sale lo stesso un pochettino dopo un po' di ore quindi tu cali di un 5% la potenza e i battiti salgono comunque di un 5% per esempio quindi forse la verità sta nel mezzo dove tu abbassi non devi abbassare troppo cioè perché tu la vedi come da 180 passa a 140 magari no da 180 passi a 170 però sì tu passi da 180 passi a 175 poi passi a 170 e i battiti piano piano passano da 130 a 135 140 quindi c'è forse una giusta via di mezzo dove cali leggermente sì e poi secondo me su questo entra veramente in gioco il conoscersi sì cioè il sapere sì 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 cosa stai facendo sia come valori sia come conoscenza di se stessi come sensazioni come tutto come diciamo prima e l'altra cosa è anche il e me la sono scordata no no però collegato con questo tipo io ho fatto un lungo da 50 km a 450 sul piattone a ritmo costante e ho finito sono partito in z1 e ho finito in z3 di battiti di battiti quindi ho lasciato il passo costante e i battiti sono saliti quindi in quel caso le mie soglie si sono si sono spostate io probabilmente ho finito a z3 di battiti z2 abbondante forse di di soglia reale sì e infatti questo è lì forse dovevo rallentare perché infatti quel lungo mi ha dato comunque una botta importante e l'ho fatto per quello però l'ho accusato di più rispetto ad altri lunghi che faccio in montagna dove controllo di più la frequenza cardiaca e la lascio la lascio salire meno no? sì 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 essendo quello il parametro è esatto bravo guardando la frequenza cardiaca nel trail la faccio salire meno e quindi lo sforzo percepito in cinque ore è stato diverso rispetto a cinque ore qui dove invece sono rimasto costante con i watt e con il passo al chilometro e il cuore e il cuore è andato troppo su probabilmente ed è proprio quello di cui stiamo parlando adesso quello l'ho gestito male forse dovevo partire allora un pelino più forte e rallentare leggermente se era più giusto così ma a me qui viene un'altra domanda allora come gestiamo una gara? cioè una gara cioè immagino la mia loot immagino una gara lunga no? ok allora parto forte e poi piano piano calo leggermente e secondo me la loot è una gara talmente lunga va bene non ho sì no ma una gara da dieci ore è una gara talmente da quindici magari quindici cioè ho un ottimo tempo che a rallentare devi rallentare cioè andiamo oltre la durability no conta tantissimo lì la durability no conta tanto la resistenza aerobica che poi è una delle caratteristiche che aiuta cioè come migliorare la durability aumentare il volume aerobico cioè aumentare il volume la mia domanda la mia domanda successiva era come come alleniamo la durability forse dobbiamo farci una puntata apposta esatto però prima di andare su quello però legare come le gestirei visto che le nostre soglie reali si spostano ok mi viene da pensare meglio sfruttare la prima parte e farla ti dico in watt è meglio che la prima parte la faccia a 200 watt e poi piano piano calo leggermente il vattaggio perché comunque poi la prestazione si va a deteriorare cioè sulle lunghe distanze voi dopo 100 chilometri per forza andate di piano non sarete mai freschi già già ripeto a parte Dario che è andato a vedere il suo podcast cioè cioè la sopprontata la sopprontata no però anche in quel caso cioè nel senso lui è andato forte sì però se lui quegli ultimi 20 chilometri li fa da fresco va ci mette 10 minuti in meno 15 minuti in meno capito quindi se senti lui dopo dopo un'ora un'ora e mezza dopo le due ore lui inizia ad essere più fresco sì ma se adesso facciamo fare una mezza maratona sì 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 o una mezza maratona dopo due ore di corte lui si potrà sentire fresco quanto vuole ma la mezza maratona si cambierà per forza più forte ma certo assolutamente assolutamente quello è normale io la gestirei senza cioè ci sta come ragionamento però è pur vero che più sfrutto all'inizio più il deterioramento sarà maggiore cioè la domanda è conviene partire a 200 watt e finire a 100 o conviene partire a 160 e cercare di finire a 140 capito qual è ora sono numeri a caso sì 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 no 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 ma è sempre stata la mia filosofia io sono più della seconda sponda come sai anche io cioè tu lo sai anzi io sono più della sponda anche non su gare il genere perché è impossibile però su gare fino a quello che riguarda me fino alla maratona barra mezzo Ironman perché l'Ironman è impossibile io ho detto il giorno che farò la seconda parte della mezza maratona della maratona dell'Ironman più forte della prima vorrà dire che la prima ho camminato perché è impossibile cioè ragazzi è impossibile però è impossibile perché significa veramente che cioè la prima parte è andata troppo piano magari è una super durability ehi cioè come fai è come diciamo adesso al passatore è come per dire che tu l'ultima scesa della luce la fai più forte c'è comunque un calo scusate nel frattempo ho un po' di notifiche che mi sono arrivate no il calo ci sta quindi da quel punto è normale secondo me su gare fino alle 3-4 ore dove ti viene richiesto di stare il più costante possibile come una gara di trail di maratona di scegliete qual è le gare la gara singola allora come pacing è meglio non esagerare all'inizio e non essere troppo morto alla fine cioè rimanere più costante per me per me Daniele quello che funziona su di me è anche andare leggermente in progressione se ci riuscite se ci riuscite per gare di 10 ore 15 ore io quello che dico sempre vince chi rallenta meno cioè stop quindi è vero non vince chi accelera la fine alla fine non accelera nessuno vince quello che non rallenta alla fine vince quello che ha una miglior dura no allora è come un giro d'Italia il tour del lanzo è un mix di fattori è quello che ha una miglior frazione di utilizzo quello che ha è il più forte una maggior durability vince il più forte abbiamo scoperto questa cosa però a parità di determinati fattori due atleti dello stesso livello stesso voodoo max stessa frazione di utilizzo stesso tutto vince quello che ha una durability maggiore una resistenza che poi la durability è resistenza perché adesso fa figo ma perché chiamarla resistenza è quello una persona più riesce a una resistenza maggiore quindi quello è normale diamo uno spunto in chiusura secondo me sul come poter migliorare questa cosa poi magari appunto ci facciamo una puntata magari sì perché ok qui adesso abbiamo spiegato un pochettino il concetto di resistenza dai chiamiamola basta durability chiamiamola resistenza era il basta adesso però sì solo quali sono i punti chiave ne diciamo uno a testa così non non ce li rubiamo facciamo almeno due a testa e dobbiamo trovare parto io o partito no parto io col più semplice me lo prendo perché sono un fan cioè il volume a bassa intensità questo me lo prendo è il più semplice allora vi vado allora vi vado sull'altro semplice però descriviamolo un secondino cioè quindi che cosa significa ok vogliamo descriverlo un pochettino no leggermente cioè l'atto pratico è fondamentale aumentare il più possibile il chilometraggio o le ore settimanali di allenamento e magari in questo caso non è detto che tu tutte le settimane devi fare dei picchi però potresti magari in cicli di ogni quattro settimane fai una settimana di picco maggiore dove vai a concentrare più ore giusto? cercare di massimizzare il volume di allenamento cercare di massimizzare il volume di allenamento ripeto che sia espresso in chilometri in ore in dislivello in quello che volete però più ore mettete nelle gambe e più avrete durability questo è il predominante poi cioè questo è il punto cruciale per la durability ma allora io mi gioco l'altro facile il prossimo giro sarà più complicato per entrambi e io mi gioco gestione di alimentazione durante ah bello cioè della serie che se tu dopo quattro ore vuoi riuscire a aumentare l'intensità devi avere glicogeno se il glicogeno muscolare l'hai finito non hai benzina e si è visto appunto che bisogna mangiare per performare sulle lunghe distanze cioè quindi basta gare a digiuno o allenamenti a digiuno se vuoi performare su lunghe distanze fino a un certo livello fino a una certa distanza magari fino a un tot di ore ma soprattutto a parte delle otto ore cioè se vuoi fare determinate intensità sì 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 cioè anche che siano dieci minuti se non hai glicogeno non li fai quindi ma io mangiare durante aumenta la durabilità io se posso dire anche a bassa intensità sì 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 anche a bassa intensità ti permette di performare cioè io nel doppio lungo ho fatto questo fine settimana ho mangiato non so se lo posso dire 100 grammi ora ah vabbè dai no è stato basso perché è stato male con la pancia e quello che mi ha stupito tra le altre cose è essere arrivato alla fine del secondo giorno che ancora potevo avevo ancora diciamo in termini ciclistici magari avevo ancora avanti in salita non so come dite voi ancora gambe avevo ancora gambe cioè io sull'ultima salita alla fine dei 3000 ho detto potrei andare avanti sì discesa poi sono scoppiato quindi non mi fraintendete non stavo benissimo quindi poi sono sceso giù ho fatto mille in discesa e volevo morire sì no esatto quindi la discesa mi ha stroncato però cioè quando mi serveva benzina in salita aveva ancora benzina ok vai ne dobbiamo trovare un altro a testo ormai l'abbiamo detto non lo so dove lo andiamo a trovare io c'ero un altro facile cioè fare i lunghi con qualità alla fine fare i lunghi con qualità alla fine giusto vero fare i lunghi con qualità alla fine e abituarti a cercare di alzare l'intensità da stanco sì 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 assolutamente questo potrebbe essere un altro un altro metodo per migliorare la durabilità o comunque fare un po' qualità verso la seconda parte verso la seconda parte di allenamento che è una cosa pure che abbiamo iniziato a fare con i nostri allievi nel fare qualità verso verso la fine che visto quello che abbiamo detto nella puntata di oggi probabilmente ecco magari uno pensa di stare di fare una ripetuta in Z4 e e non sta facendo una ripetutenza da 4 vi faccio un esempio quello che abbiamo visto poi alcune volte è che alcuni non riescono invece a farle e è successo magari che non avevano benzina e non riuscivano a far salire i battiti non riuscivano a a fare le ripetute richieste a fine allenamento perché comunque è una cosa molto impegnativa specialmente nella corsa rispetto alla bicicletta dove secondo me il deterioramento è più accentuato rispetto non so se definirlo così però c'è più fatica sicuramente dopo 4 ore di corsa è più difficile rispetto dopo 4-5 ore di bicicletta è più difficile riuscire si diciamo che in bici a meno che non sei in pianura fisso lì che non smetti mai di pedalare una pausa una salita una discesa però anche nel trail ci dai un po' le discese però vuoi o non vuoi forse beh dicete nel circuito non pedali nel trail comunque devi andare giù e devi correre comunque devi correre quindi quello aiuta sicuramente ne devo trovare un'altra un'ultima io sono tentato a dire fare i lunghi da digiuno scherzo scherzo non lo fate scherzo fare i lunghi con qualità all'inizio cioè abituarti a correre da stato sì 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 però dico questa perché al momento non ne ho un'altra vabbè poi ci facciamo una puntata come allenare come diventare più resistenti come correre più a lungo sì poi ci facciamo però sì oppure fare i lunghi sempre più lunghi oppure potrebbe essere un'opzione che potrebbe il volume settimanale è la più importante e poi avere dei lunghi lunghi bravissimo infatti no bravo secondo me ripetuto lunghi ok ne abbiamo tratti cinque però il discorso lunghi più lunghi è giustissimo perché è fondamentale il volume complessivo settimanale cioè è una componente importantissima ma anche il singolo giorno lo stimolo che poi all'interno del volume dai anche lo stimolo cioè che non è nello stimolo lungo allora ho fatto tanto volume ma faccio tanto volume e all'interno di questo tanto volume riesco a fare anche un lungo lungo allora sì forse sì esatto beh chiudiamo col botto va bene ragazzi fateci sapere se avete domande scrivete qui sotto nei commenti fateci sapere se questo podcast vi piace se c'è qualche argomento particolare di cui vorreste parlare anche se sì faremo poi un Q&A su Instagram con una puntata Q&A sicuramente faremo per quando torno post lutto post viaggio di nozze e quindi quindi sì faremo poi qualcosa su Instagram e vorremmo cercare di coinvolgervi il più possibile e niente fateci sapere mettete mi piace non lo so lasciate non so i miei podcast che si lascia le stelline le stelline recensioni like mi piace qualsiasi cosa va bene grazie mille per noi è un piacere farci questa chiacchierata e ci vediamo alla prossima con te ciao ragazzi buone corsa a tutti ciao